Tutti gli anni è così, arrivano le feste e non so che regalo fare. Ma quest'anno ho scoperto che nello showroom di Giancarlo Maggi a Casteggio ci sono migliaia di calzature di grandi marche per uomo, donna e bambino. Stile, comodità, qualità e prezzi vantaggiosi. In via Gramsci 18 a Casteggio, Maggi Calzature. Scarpe per tutti o quasi. Parigi, questa notte è un attacco terroristico, 128 morti, una serie di attentati ravvicinatissimi rivendicati sul web dall'ISIS che scrive La Francia manda i suoi aerei ogni giorno in Siria, bombardano bambini e anziani, oggi beve dallo stesso calice. Vengono colpiti teatro, ristoranti e stadio, cadaveri nelle strade, otto assalitori sono stati uccisi ma non si esclude che alcuni terroristi siano ancora in fuga. Il presidente francese François Hollande parla ai connazionali in televisione, dichiara lo stato d'urgenza in tutto il territorio e dice La seconda misura è la chiusura delle frontiere, per fare in modo che le persone responsabili di tutto questo possano essere catturate. Poi l'Eliseo precisa, nessuna chiusura ma aumenteremo i controlli. Matteo Salvini scrive su Facebook Renzi dorme, va fatta chiusura delle frontiere italiane, controlli a tappeto di tutte le realtà islamiche presenti in Italia, bisogna bloccare partenze e sbarchi, attaccare in Siria e in Libia, i tagliagole vanno eliminati con la forza. Cosa ne pensa? È questa la soluzione, bombardare e attaccare oppure bisogna agire più cautamente? Bombardare così a tappeto non è mai la soluzione giusta e neanche chiudere le frontiere del resto, perché comunque questi terroristi sono nati in Francia, sono francesi da tre o quattro generazioni, quindi anche chiudere le frontiere non è la misura giusta. È difficile pensare a quale misura adottare in questi casi. Sicuramente non bombardamenti perché ci vanno di mezzo delle persone che sono innocenti, poi assistiamo già a una immigrazione di massa e aumenteremo questo fenomeno e sarebbe anche colpa nostra, anche se non siamo in prima linea in queste azioni. Quindi, non so, la misura diplomati è sempre la migliore. Certo che bisogna capire quale sia l'interlocutore più giusto, perché al momento non ce ne sono né in Siria né nei paesi dove ci sono azioni di guerra. Di un attentato simile non si ha memoria in Europa. Secondo lei le nostre abitudini quotidiane, anche per le persone che viaggiano, per esempio, cambieranno oppure si tenderà a dimenticare ancora una volta? Purtroppo cambieranno. Cioè, chi dovrà andare a Parigi o a Londra, secondo me, ci penserà un po' di più. Poi ci andrà ugualmente, però farà una riflessione in più. Beh, secondo me bisogna agire più cautamente. Cioè, prima di tutto più controllo nelle frontiere, che adesso sono aperte a tutti, possono entrare e uscire quando vogliono. E secondariamente è ora che faccia qualcosa anche questo governo, perché è una cosa veramente schifosa. Cosa andrebbe fatto? Quindi aumentare i controlli sulle frontiere? Aumentare i controlli sulle frontiere, poi dappertutto, insomma, non è più possibile una libertà così. Perché noi dobbiamo ricevere tutti qui in Italia e se andiamo all'estero dobbiamo rigare i dritti e fare quello che vogliono loro? Non è una cosa giusta questa, secondo me. Secondo lei, dopo questo attentato così devastante, la percezione è che gli italiani hanno delle persone straniere presenti sul nostro territorio, non per forza degli estremisti, ma anche semplicemente dei musulmani credenti. Cambierà oppure no? Ma secondo me no, hanno diritto anche loro alla loro religione, come noi. Però giustamente non possono allargarsi così tanto. Ecco, ci vuole una misura su tutte le cose. Il fatto che l'ISIS abbia detto state vivendo quello che noi viviamo da cinque anni. Ma no, noi ci pensiamo certamente a queste cose, però giustamente a quest'ISIS io non riesco a capire come mai sti tagli a gola queste cose. È una cosa assurda, secondo me. Ma perché succedono queste cose? Non è chiaro l'obiettivo. Perché non si può ragionare? Perché non si può parlare? Perché devono uccidere dei nostri ragazzi che vanno giù a aiutare loro, oltretutto? Perché io ho un figlio che va in questi posti per aiutare questa popolazione, ma non è giusto che un domani si trova con la gola tagliata. non fa niente di male, secondo me. Si è fatta un'idea sul perché queste persone agiscono in modo così violento? No, assolutamente no. Bisogna agire più cautamente. Come mai? Perché non c'è bisogno di rispondere con le stesse armi. Secondo te, le nostre abitudini quotidiane dopo questo attentato cambieranno? E se sì, in quale modo? Cambieranno sì, perché giustamente la popolazione ha più paura per avere un attacco terroristico del genere. Abbiamo avuto le prove dalla Francia, da Parigi, quindi cambierà tutto. Cosa ne pensa di quello che ha scritto l'ISIS? Cioè la Francia sta vivendo ciò che la Siria vive quotidianamente da cinque anni. Forse noi non ci rendiamo conto che quel popolo civili, i civili, i bambini, i anziani, stanno vivendo esattamente la stessa cosa che ha vissuto a Parigi? Oppure chi scrive così è esagerato? Scrive così, sì, è esagerato, perché non c'è bisogno che noi dovremmo vivere la stessa loro cultura. Non siamo la loro cultura, giustamente. Solo per questo. Forse però bombardare può dare adito a questo tipo di reazioni? Oppure no? Bombardare la Siria ci andranno di mezzo anche le persone civili che non c'entrano niente, non solo l'ISIS. Bisogna catturare solo l'ISIS.